così direi di fare le fiamme che poi praticamente la parte arancia ti resta come ruggine e dove c'è il bianco di qui praticamente si taglia e si fa aggiunto vai iniziamo 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 Grazie a tutti. 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 Via, oh, per oggi basta. Noi domani facciamo il secondo episodio e vi facciamo vedere la moto finita.